Buongiorno, il progetto che vorrei presentare si chiama Verso il Geo e-Government, un approccio data-driven per il supporto al decisore politico. Io mi chiamo Luca Incerti, sono un architetto e sono un collaboratore dell'area Statistica e Analisi Geografica delle Politiche Regionali per lo Sviluppo, per conto della Direzione Regionale della Programmazione Economica della Regione Lazio. La Direzione Regionale, negli ultimi anni, ha promosso l'utilizzo integrato delle piattaforme di analisi geografica all'interno dei processi decisionali di cui è titolare, sviluppando una serie di applicazioni prototipali finalizzata alla consultazione da parte di utenti non esperti nell'utilizzo dei sistemi GIS. L'obiettivo di base è identificabile nella possibilità di sviluppare dei moduli riutilizzabili che ogni volta si è richiesto possono essere configurati con un'interfaccia costruita sulle necessità operative dell'ufficio richiedente. Oltre a permettere la consultazione da parte dell'utente, questo approccio consente l'acquisizione automatica dei dati da parte del sistema centrale dell'area Statistica e Analisi Geografica, che può quindi acquisirli e organizzare la loro archiviazione. Ma torniamo al caso di studio. Nell'area Statistica e Analisi Geografica si è presentata la necessità di analizzare le aree delle comunità montane in ragione della loro trasformazione in unione di comuni. Il progetto nasce quindi dall'esigenza di definire i perimetri delle unioni di comuni sul territorio regionale e di proporre le aree individuate ai tavoli concertativi con i livelli amministrativi interessati. La principale funzionalità richiesta è stata quella di poter visualizzare i dati sia sotto forma geografica che tabellare e di effettuare i calcoli degli indicatori automaticamente sulla base dei comuni selezionati. Una volta selezionato un comune è possibile consultare i suoi indicatori e verificare i distretti di appartenenza. E' possibile anche selezionare un comune afferente agli stessi distretti amministrativi oppure l'intero gruppo. Il comune può essere selezionato anche attraverso una ricerca testuale. È possibile cercare all'interno di un listato il nome del comune e aggiungerlo o se vogliamo levare uno dalla lista esistente. Una volta effettuata la selezione viene popolata una tabella con le informazioni relative ai comuni. Scorrendo questa tabella viene evidenziato il perimetro del comune sulla mappa. È possibile eliminare alcuni comuni dalla tabella stessa oppure verificare quali siano i valori totali degli indicatori interessati. Un'ulteriore analisi può essere quello di verificare quali siano i distretti e i perimetri amministrativi interessati dalla selezione, per poi metterli in relazione con gli stessi perimetri su tutto il territorio regionale, attraverso i vari tematismi. E' inoltre possibile aggiungere uno strato informativo con le informazioni relative agli indicatori. A questo punto è possibile produrre un report automaticamente. Il report è configurabile. È possibile scegliere quali componenti grafiche inserire, personalizzarne didascalie e titoli, pubblicare i dati complessivi degli indicatori e verificare il listato completo di tutti i comuni interessati. Una volta controllato può essere esportato in pdf e essere pronto all'utilizzo del processo amministrativo. Lo strumento che abbiamo sviluppato consente quindi di facilitare la condivisione delle informazioni del processo decisionale, semplificandolo e rendendolo più efficiente, favorendo la partecipazione di tutti gli stakeholders. Grazie.